Essere medico per spirito di servizio, non solo per lo stipendio. Lo dimostra la storia che arriva da fermo e che ha per protagonista un dottore in pensione che finito il turno di lavoro ha ritenuto di recarsi a casa di una giovanissima paziente già visitata per poi disporne il ricovero. La quindicenne era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Murri. Dopo averla dimessa, il medico di turno è andato a casa della giovanissima la mattina dopo, una volta smontato dal servizio, per sincerarsi delle sue condizioni di salute e in particolare per verificare un dubbio sulla necessità di un ricovero in neurologia. Ricovero poi disposto e che ha evitato all'adolescente eventuali rischi. La ragazzina infatti era stata colpita da un'infiammazione midollare ed era necessario che venisse presa in carico dal reparto al più presto. La famiglia era uscita dal pronto soccorso alle 3 del mattino con l'idea di partire il giorno dopo per andare all'ospedale di Ancona. Quando è suonato il campanello e abbiamo trovato il medico che ci aveva accolto al pronto soccorso, non ci potevamo credere. Non siamo più abituati a medici, così raccontano i genitori. Il sanitario Francesco Bernetti Evangelista, medico in pensione impegnato con una cooperativa che collabora con il pronto soccorso, dice di aver fatto solo il suo dovere e che c'era da approfondire una situazione che in pronto soccorso non era stato possibile verificare. La storia però è diventata virale, tra messaggi di solidarietà e di elogio. Sono medico da 40 anni, insiste Bernetti Evangelista. Ho operato circa 30.000 persone. Non mi sembra di aver fatto qualcosa di strano. Dopo 10 giorni di ricovero e terapie, la 15enne è guarita ed è tornata in piedi. Il medico invece è tornato al suo lavoro.